Ciao a tutti, bentornati! Alle mie spalle c'è un bellissimo calendario da scartare sto parlando del calendario dell'avvento di Look Fantastic finalmente mi è arrivato perché l'ho preordinato circa più di un mese fa ai primi di settembre siamo ai primi di novembre quindi mi è arrivato dopo un bel po' di tempo e sono molto molto contenta che mi sia arrivato anche perché sono curiosa di vedere quello che c'è all'interno e di farvi dimostrarvi anche quello che c'è all'interno io ho tra l'altro approfittato dello sconto di 15 euro quindi penso di averlo pagato 80 euro rispetto ai 95 di base che costava devo dire che rispetto anche ad altri calendari in circolazione quest'anno lui è, diciamo, rapportato alla qualità e al prezzo è tra i più convenienti non costa poco chiaramente però se andate a confrontare questo calendario con quello di Sephora o di Cut Beauty o comunque insomma di quella tipologia lì come prezzi diciamo che è il più onesto è quello che costa un po' meno siamo lì sui 100 euro e anche lì penso di aver approfittato dello sconto e l'ho pagato sui 90 bene o male siamo lì Cut Beauty ricordo che costasse un po' di più infatti poi ho optato per lui anche perché mi piaceva un sacco e quindi andiamo da scartare bando alle cianze andiamo a vedere un po' quello che c'è all'interno ho cambiato postazione perché vorrei farvi vedere il calendario così come lo scarto nella sua integrità allora il calendario in questo cartone è abbastanza resistente si apre tipo anta così e all'interno abbiamo tutte le caselle sono 25 caselle quindi abbiamo ben 25 caselline da aprire io partirei dalla casella numero 1 e la vedo qui questa casella dorata e all'interno c'è un bellissimo prodotto sto parlando di un prodotto di Natasha Denona ed è il duo blush illuminante di Natasha Denona allora contentissima spero soltanto che stavolta a differenza del calendario di Sephora l'ho trovato praticamente distrutto c'è spero di trovarlo in te che è integro all'interno ci sono questo duo di illuminante che penso sia molto simile a quello che ho trovato all'interno del calendario di Sephora che però è soltanto illuminante e questo blush bellissimo di questo rosa finalmente posso provare questi bellissimi prodotti di Denona di cui tutti parlano e straparlano è il blush glow duo quindi è un illuminante è un blush a sua volta illuminante nella casella numero 2 invece troviamo un bel pennello è della Luxi Beauty ed è un pennello per illuminante tra l'altro ho trovato in una delle ultime beauty box di Look Fantastic un pennello per applicazione diciamo per applicare l'ombretto dello stesso brand con lo stesso manico quindi penso se facciano parte dello stesso set vediamo la casella numero 3 che vedo qui nell'angolino piccola e abbandonata penso sia una cosa che si possa roma molto un brown tra l'altro la carta utilissima a differenza del calendario di Sephora che secondo me a causa dell'imballaggio si sia rotto l'illuminante ed è questo gel doccia di Molton Brown tra l'altro io ho già provato il gel doccia di questo brand c'erano nella versione azzurra che aveva una profumazione molto fresca che sto utilizzando questa qui mi sembra molto agrumata cioè molto fiorata come profumazione infatti ha le rose perfetto per noi per noi che amiamo questa profumazione le rose e tra l'altro questo brand è molto valido soprattutto per i prodotti da bagno quindi bagno schiuma e cose simili tra l'altro non costano neanche poco quindi è una versione da 100 ml quindi neanche troppo piccola quindi ci piace vediamo la casella numero 4 vediamo qui c'è mi è caduto qualcosa di Rodial di Rodial ci piace tantissimo il tonico questo qui invece è un'acqua micellare un'acqua micellare non si sente la profumazione ha sempre questo erogatore a push dove poi viene fuori il prodotto andiamo ad aprire la casella numero 5 ed è di Mina un bellissimo ombretto nel potino un ombretto cremoso non ho mai provato neanche questo brand Mina mai ed è questo bellissimo dorato più un bronzo che dorato dai diciamo bronzo bello poi 6 casella numero 6 la vedo qui in alto cosa ci propone la casella numero 6 Philip Inslee ed è un prodotto per capelli ah una maschera per capelli una maschera per capelli alla vaniglia e all'arancia diciamo agli aromi sì una maschera per capelli da tenere in posa prima dello shampoo non conoscevo questo brand non lo conosco quindi curiosa curiosa di provarlo 7 allora vediamo un altro allora questo qui in realtà ne ho ben 3 questo famosissimo tonico di Ren è il tonico illuminante il ready steady glow agli acidi AHA che io ce l'ho sia in versione full size che è in versione mini size e poi l'ho ritrovato anche qui che devo dire che sto utilizzando e mi sta piacendo però insomma mi fa piacere averlo trovato perché è un ottimissimo prodotto andiamo alla casella numero 8 l'8 è qui piccolina anche lei vediamo un po' allora Yves L'Homme il brand che ho sentito ma non conosco non ho mai provato nulla ed è un ah è una crema struccante un balsamo struccante diciamo che per struccarmi io tendenzialmente utilizzo sempre le acque micellari e poi successivamente un gel detergente i balsami non li ho mai provati però penso siano molto molto buoni soprattutto per truccare la parte degli occhi quindi il mascara che è un po' più ossico a venire via quindi ci fa piacere da 20 ml e curioso di provare anche lui numero 9 casella numero 9 allora bellissima questa carta fucsia è una matita? penso sia una matita ed è una matita di Diego della Palma la numero 01 mi sembra la colorazione nera tra l'altro la matita di Diego della Palma per le labbra che ho utilizzato ma che sto utilizzando poco a causa appunto delle mascherine quindi pochi prodotti labbra sto utilizzando è una matita occhi nera di Diego della Palma dicevo quella lì mi piace molto perché il colore è molto molto bello trovo che sia anche poco setta la 10 la casella numero 10 è questa qui che non mi sembra proprio piccolina ed è ah Ritual Ritual è uno scrum corpo io tra l'altro ho trovato in una box è ancora chiusa non la apro ho trovato un prodotto diciamo corpo un gel doccia in una delle beauty box da quando appunto ho iniziato mi sono abbonata devo dire che mi piace molto non conosco molti prodotti di Ritual a parte quello lì però uno scrum corpo mi mancava quindi sono contenta allora 11 11 eccola qui casellina numero 11 un prodotto piccolino vedo allora Super Glow Yaluronic Self Stam Serum Gradual allora se non sbaglio questo prodotto è un siero che va a illuminare ma allo stesso tempo a donare un colore un po' più scuro al viso se non sbaglio applicare 3 o 4 push art direttamente sulla pelle massaggiare con movimenti circolari su tutta l'area è abbastanza piccolino ed è della brand Tan Lux 12 vediamo cosa ci riserva questa casellina la 12 in la masca un prodotto labbra mi sembra un bene un gloss labbra di la masca il mini size il colore vediamolo un bel rosa intenso un bel rosa abbastanza strong bello mi piace casella 13 ah ho capito nella casella 13 troviamo una maschera notte una maschera appunto per dormire non le ho non ho mai provato non sono la tipa da mascherina perché io dormo anche con le luci accese alla luce del sole dovrebbe essere in seta raso del marchio glove sefora look fantastic ha un sacco di prodotti di questo brand io ho provato la spazzola anche il turbante per capelli con cui mi trovo molto molto bene e questa bella mascherina per riposare da notte in seta raso non lo so io non sono tipa da utilizzare mascherine per dormire però magari un giorno se lo avessi avere bisogno ce l'ho la 14 è qui allora allora sempre la nostra fantastica crema di Elemis io ho trovato questa stessa maschera identica nel calendario di Asos se non l'avete visto andatela a vedere in formato sempre full size quindi sono strafelice di avere un doppio diciamo un prodotto di questo prodotto qui in particolare è la crema pro collagene ah no mi sa che è diversa questa qui invece è la crema notte sbaglio rettifico allora ancora meglio io ho trovato in quello di Asos una crema pro collagene marino da giorno qui invece abbiamo trovato la crema ossigenante da notte quindi abbiamo entrambe le creme la crema giorno e la crema notte quindi fantastico io pensavo fosse la crema la stessa identica crema che ho trovato in quel calendario invece no benissimo abbiamo anche la crema notte sapete che io adoro e ogni volta che trovo i prodotti di Ele mi sono strafelice 15 sotto 15 troviamo un siero la vitamina C penso di averlo già provato questo siero di e-cooking che è un brand vegano quindi dovrebbe essere un siero illuminante proprio perché all'interno c'è della vitamina C e mini penso sì perché è da 10 ml bene io vi ricordo che mi era piaciuto questo siero quindi sono contenta di averlo ritrovato 16 16 è questa casellina abbastanza grande vediamo della This Works tra l'altro io ho provato e ho terminato un siero alla vitamina C ed è una è una crema per il corpo da notte Deep Sleep Body Cocoon Cocoon ah è chiusa però noi siamo curiosi quindi vogliamo sentire anche la profumazione mi sembra molto intensa quasi quasi maschile e quindi è una lozione rilassante per le mani e per il corpo da notte sì diciamo da notte per essere più brighter quindi più illuminate durante il giorno quindi corpo e mani da 100 ml 17 17 qui vedo della carta anche della Blue Ball ed è andiamo ah ok allora questo qui è della Omorovica che non so pronunciare benissimo io ho trovato la crema la maschera all'argilla di questo brand che è un brand super luxury di look fantastic dovrebbe essere una crema credo penso sia una crema silver skin sour sinceramente non lo specifica SOS argento forse una crema illuminante non lo so non ne sono convinta mi sembra di sì comunque Omorovica è il brand anche lui molto molto famoso è super top 18 e andiamolo a vedere 18 riserva invece della slick un primer mattificante bene sono contenta perché all'interno ci sono diciamo un sacco di prodotti dalla skin care al beauty quindi ci piacciono questi calendari 19 19 lo vedo qui su Anastasia allora questo qui in realtà io ce l'avevo nel carrello di Sephora perché lo volevo acquistare sto parlando del mascara di Anastasia di Anastasia di Heels non lo voglio aprire perché sto accumulando un sacco di mascara è da mascara volumizzante e i mini size bene anche perché davvero ne ho tanti da provare e da testare ce l'avevo all'interno del carrello di Sephora ma avevo diciamo sentito dire che all'interno di questo calendario ci sarebbe stato questo mascara quindi non l'ho acquistato appositamente quindi sono stra felice questo è uno di quei prodotti che volevo acquistare la venti è qui mancano 5 caselle e alla fine allora questo qui invece allora della mio ho trovato anche di un'altra fraganza questo prodotto ed è un detergente per il corpo da doccia quello che ho provato io è al profumo di arancia agli agrumi ed è un semplice detergente questo qui è invece sì un detergente maschera e sì detergente appunto 21 piccolino anche lui filorga filorga contenta allora filorga time filler è una crema correttiva per le rughe diciamo una crema sì una crema come diciamo anti rughe io adoro filorga adoro il siero adoro la maschera quindi sono molto contenta questa qui è una mini size poteva essere una full size per quanto mi riguarda da 15 ml non l'ho provato ma era uno di quei prodotti di filorga che avevo voluto provare 22 22 caudalie caudalie è un gel ah un gel detergente purificante di caudalie infatti mancava pensandoci un gel detergente dovrebbe essere per pelli grasse la profumazione mi sembra anche abbastanza delicata ma allo stesso tempo intensa interessante anche lei io per i gel detergenti ho un debole quindi contenta 22 23 manca poco alla fine 23 vediamo che cosa ci riserva Avant Avant io ho provato la crema abisso al acido ialluronico burro di karité olio di mandorle dolci che mi è piaciuta tanto invece questa qui è una maschera le rose acido ialluronico mandorle dolci bene e avocado oil quindi olio d'avocado una maschera rivitalizzante e rilassante bene bene maschere sono sempre ben accette a noi piacciono tanto Avant poi sapete non posso immaginare neanche quanto possa costare questa maschera quindi sono molto contenta le ultime due caselline mancano 24 io qui vedo 25 e qui vedo 24 nella penultima casella troviamo una cosa piccolina allora lord berry dovrebbe essere una matita per sopracciglia infatti ha il pennellino lo scovolino e la parte della matita la colorazione dovrebbe essere giusta per me quindi un marrone abbastanza intenso e freddo credo mi sembra di sì quindi va bene va bene anche questo ci piace 25 siamo alla fine vediamo la casella numero 25 che cosa contiene espa espa allora è un crema idratante anche espa è un brand è un brand stra abbastanza costoso è validissimo op sto facendo un danno è validissimo che rivende look fantastic è in formato full size ed è la espa 24 ore balancing mostius sì è una crema viso è una crema viso idratante e ci piace ci piace quindi sono contenta che quest'inverno non acquisterò neanche una crema per il viso perché ne sto accumulando davvero tante mi fa davvero piacere e quindi siamo contenti sì quindi per il viso per il décolleté e wow questa è una bella crema anche perché ero indecisa se acquistare la box di espa che aveva fatto uscire qualche mese fa penso il mese scorso look fantastic ma mi aspettavo che espa avrebbe messo qualche prodottino sia all'interno della beauty box mensile che del calendario dell'avvento quindi ho desistito e ho fatto bene anche perché mi sarei ritrovata con dei doppioni questo era tutto allora io per il momento non ho altri calendari dell'avvento da mostrarvi però ho in mente di acquistare altri non lo so devo capire un po' ditemi che ne pensate se vi è piaciuto questo calendario io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo presto ciao ciao